Cosa stiamo lavorando in questo periodo con NIG? I mattini passano a Chiari Che cos'è i mattini passano a Chiari? Di cosa parla? Uno spettacolo teatrale, uno studio in nero su Cesare Pavese Chi c'è? C'è Roberto Accornero, c'è Barbara Forlay e Beppe Giampa che è in scena come personaggio con le sue musiche dal vivo che ha proprio creato sulle poesie di Cesare Pavese Quanto è bello questo spettacolo È bello, è bello Quando lo facciamo e dove? Il 12 febbraio Teatro Alfieri È da vedere? Eh, lo consiglio, assolutamente